marchesi daniele bobbio piacenza il virus piccolo così piccolo che non suscita invidia minuscolo tanto da essere lui un insidia non viaggia coi miserabili sui loro barconi ma prende l'aereo coi turisti e signoroni infetta il poveraccio ma anche il suo dottore esce con i veleni della gente che sembra ormai senza più cuore si diffonde con le gocce che seguono le parole viaggia nascosto nella pioggia ma si sparge anche col sole non lo fermano né mari né le alte mura e corre pari a pari solo con la sua dose di paura ci pare di essere al sicuro chiedendo alle nostre spalle la porta ma ci pesa la serenità persa come fosse per sempre morta guarderemo d'inverno il fiume con l'acqua alle ginocchia sulle spalle i bambini e torneremo ancora sull'altra sponda a tornare più vicini vorrei semplicemente pensare che anche questa volta ce la possiamo fare non ditemi di chiedere di meno non 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 Grazie a tutti.